Alice, la nuova ballerina entrata nella scuola di Amici 21, ha scelto da chi vuole essere seguita in questo percorso nel talent di Canale 5, ovvero da Alessandra Celentano. Le squadre di Amici 21 sono ormai in via di formazione e da quando è iniziato il talent show gli allievi, seguiti dai loro insegnanti, si preparano ad affrontare il serale, che arriverà su Canale 5 tra non molto tempo. Durante la scorsa puntata pomeridiana ha fatto il suo ingresso nella scuola una nuova allieva, Alice, presentatasi per la categoria del ballo e dopo aver conquistato il banco la ginnasta è chiamata a scegliere da quale degli insegnanti farsi seguire, ed ecco che nel daytime arriva la scelta finale. Dopo tanto pensare, infatti, ha comunicato ad Alessandra Celentano di voler essere seguita da lei in questo percorso. È arrivato il momento di comunicare la sua scelta e Alice, quindi, si presenta dalla maestra Celentano, dopo aver parlato in precedenza anche con Veronica Peparini e Raimondo Todaro. La ginnasta, quindi, alla domanda su cosa avesse pensato ha esclamato, ho scelto lei, scaturendo lo stupore della docente che le chiede quali siano state le motivazioni. Alice, quindi, prova a spiegare il perché della sua decisione. Nella ginnastica ho avuto e ho delle insegnanti che mi tengono testa, anche le correzioni non le dicono con modi gentili, te le dicono in modo schietto, lo fa anche lei. E quindi io vorrei avere un insegnante che nel momento in cui faccio l'esibizione non sia contenti e non mi dica bene, oppure hai lavorato meglio che in sala, come io nelle mie performance guardo solo gli errori non quello che ho fatto bene, vorrei che anche l'insegnante non vedesse solo la parte bella.